E allora intanto come affronti questa avventura della città di Castello? Affronto benissimo, siamo una squadra che siamo un sacco di giovani, una squadra che è fatta di ragazzi che hanno voglia sicuramente di farsi valere anche in categorie superiori perché molti di loro e di noi hanno fatto l'eccidenza l'anno scorso, è un gruppo importante comunque vada, secondo me siamo una buona squadra, è normale siamo a otto giorni, nove giorni di carichi di allenamento, ancora non abbiamo birra nelle gambe però abbiamo fatto la nostra partita e credo che sia una bella società e un bel ambiente per poter fare bel calcio. Obiettivo salvezza? Obiettivo è sempre la salvezza e poi dopo vediamo, fammi facendo, però vediamo un attimino il girone, quello che sarà e soprattutto quanti saranno le squadre, grazie. Grazie a tutti